Siamo qui con i nostri collaboratori della WISP a festeggiare il Natale, ma soprattutto un momento d'incontro, soprattutto per ringraziare dipendenti, collaboratori, volontari, responsabili delle strutture d'attività che hanno contribuito alle attività della WISP durante tutto il 2018. Il 2018 è stato un anno importante, molto significativo per la nostra associazione perché si è consolidata come un'associazione molto rappresentativa qui in provincia di Modena perché abbiamo chiuso un buon bilancio poco tempo fa dove abbiamo registrato comunque 55.000 iscritti in provincia di Modena che è un numero importante. Siamo tra le più tradizionali organizzazioni di maggior peso a Modena e ovviamente abbiamo anche consolidato quelle che sono le nostre attività e i valori per le quali si ispirano queste attività che sono le sport per tutti e comunque un'idea di sport basata soprattutto sull'integrazione, sulla valorizzazione degli sportivi, sulla valorizzazione delle persone, sul rispetto delle regole e soprattutto uno sport che deve avere una sua funzione importante a livello sociale, a livello di tutela della salute e per il benessere psicofisico della persona. Noi ci siamo impegnati quest'anno in questa situazione qua e anche per il prossimo anno quello che verrà speriamo di riuscire ad ottenere gli stessi ottimi risultati che abbiamo ottenuto basandoci sempre su quelle che sono le nostre idee valoriali. Quindi ne approfitto per dare a tutti gli sportivi, a tutti i nostri volontari, a tutti i nostri collaboratori, alle loro famiglie, ai loro cari, gli auguri di Buon Natale e di un anno che verrà, il 2019, che sia ricco e pieno di soddisfazioni perché credo con i tempi che corrono ne abbiamo veramente bisogno tutti quanti. Ho avuto il piacere e l'onore oggi di essere fra gli invitati che la WISP ha chiamato per il pranzo di Natale. Dico in primis grazie al Presidente Giorgio Baroni e a tutta la struttura WISP per questo invito del quale mi sento onorato ma soprattutto sono molto felice. È stato un anno in cui sono stato chiamato a dirigere la struttura Carcio. Da 6-7 mesi ho preso in mano la cosa, la sto conoscendo, sto portandola avanti. Ci sono stati dei piccoli cambiamenti, delle cose che dovranno avvenire in futuro. Stiamo sempre cercando di più di andare vicino alle società, facendo commissioni con le società stesse in modo tale di migliorare il nostro prodotto per loro, cioè i nostri campionati, essere sempre più vicino alle società e agli atleti stessi. In questo momento c'è in atto il Valerini che è una cosa storica, è un torneo storico che la WISP organizza da tanti anni, sta andando abbastanza bene, tante società si sono iscritte e si stanno divertendo. Il futuro è una cosa che stiamo lavorando per migliorare sempre di più, ci stiamo organizzando con commissioni e quant'altro e speriamo sempre nell'apporto e nel supporto delle società, degli atleti per fornire a loro un servizio migliore e per avere noi come WISP il piacere di organizzare quanto più possibile le attività calcistiche per loro. Da parte di tutta la struttura calcio della WISP di Modena, non mi rimane altro che fare un grosso augurio di Buon Natale, ma soprattutto di un sereno e prosperoso 2019. Siamo molto contenti di avere dei giovani finalmente a questo tavolo perché ormai l'età si sta abbassando finalmente, quindi vedete Fabio Giordano che è fra le più giovani, Giorgia Sala, uno dei nostri nuovi e preziosissimi inserimenti e via via andiamo fino in fondo e avanti così sta arrivando Riccardo Brevidiere, questo è Sergio Bertozzi che alza la media e ci mantiene ancora nel passo WISP di una volta. Arrivederci, Buon Natale, Buone Feste a tutti.